Perchè hanno levato? L'arena con i leoni, con i morti... Circolavano gli anni... I romani che si rompavano... Marco! Ma chi è che rompe? La sciolta, chi va? Marco! Non, 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 Qu'è un po' di questo? Non, ora... O è l'aventura... Cosa? 거를 perdere questa... Che scoperte dei tempi di e ferite... ...il vengono, di ruota... Il vengono. ...il vengono, il vengono, Grazie a tutti.